La bellezza di Roma va rispettata da tutti, per questo ho emesso un'ordinanza a tutela del decoro delle fontane storiche e monumentali. Sono specificate una serie di divieti, tra i quali quello di bivaccare, quello di bagnarsi i piedi nelle fontane o addirittura di fare il bagno. Sono stabilite delle multe da 40 a 240 euro e soprattutto la Polizia di Roma ha il compito di vigilare con ancora maggiore attenzione su questi siti. Dobbiamo proteggere la nostra città, il decoro è importante.